Sapevamo che venivamo in un campo non facile, dove soprattutto anche ultimamente Orzi sta facendo molto bene. Siamo riusciti a tenere una squadra come Orzi Nuovi che nelle ultime partite, adesso non so di preciso, ma viaggia, l'ultima mi sembra, a 99 punti. Quindi siamo riusciti a tenere le 76 con tutti i protagonisti, nel senso che una volta a turno siamo stati protagonisti. La cosa che secondo me è fondamentale per questa partita è stato l'impegno e l'aggressività che abbiamo messo in campo in attacco e in difesa. E' una cosa che dobbiamo tenerci cara e portarci avanti fino alla fine della regular season e poi anche per la fase orologio e speriamo anche più avanti. Quanto era importante cancellare due passi falsi con Tortona e Torino? Io ho sempre guardato partita per partita, sia dopo una vittoria che bisogna stare sul pezzo come questa, bisogna stare concentrati e con la testa su quello che stiamo facendo e quindi anche di conseguenza dopo una sconfitta. Quindi penso siano importanti questi due punti e penso che adesso ci tocca un'altra battaglia domenica prossima. Grazie. Grazie.